E dunque il nuovo acquisto per la Under23, Simone Iocolano è ufficialmente un giocatore della Juve, sta sostenendo le visite mediche in questo momento, giocatore d'esperienza, classe 89, quindi giocatore sicuramente che ha esperienza sulle spalle, è un fantasista, è un giocatore che stava veramente facendo bene Alecco, infatti lui è un fantasista ala, principalmente sinistra, ma che ha giocato molto sia al centro che anche sulla destra, quindi c'è un giocatore molto duttile, ma di grandissima qualità, che gli ha fatto condire finora una stagione buonissima, dove con Alecco ha già realizzato anche tre reti, oltre 20 partite, in più c'è anche un gol in Coppa Italia, Serie C, quindi un giocatore sicuramente da rendimento alto, e che l'Ecco, soprattutto so che l'allenatore dell'Ecco avrebbe fatto qualunque cosa pur di averlo ancora in rosa con loro, e invece la Juve è stata secondo me molto brava, è riuscita a prendere questo giocatore di piede destro, molto valido, molto forte, contratto fino a fine anno, poi vediamo, insomma dovrebbe essere un contratto fino al 2023, quindi fino all'anno prossimo, ed è un acquisto importante anche per la prima squadra, non tanto per lui, principalmente per lui, quanto per il fatto che con l'acquisto di Jocolano, Ake diventerà a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra, quindi verrà inserito nella rosa della squadra di Mister Allegri, e quindi passerà in prima squadra ufficialmente, ripeto, è un ottimo, un ottimo giocatore, è un giocatore di categoria, ci farà divertire, e non vediamo l'ora di vederlo in campo, ovviamente non domenica contro la Provercelli, ma, a parte che oggi è venerdì, quindi potrei anche aspettarmi di vederlo in campo domenica, conoscendo un po' il mercato come va, però sicuramente dalle prossime partite lo avremo nella rosa, giocatore, ripeto, molto valido, molto forte, e soprattutto di categoria, la Juve Under-23, questa prima parte è mancata soprattutto nell'esperienza, e Jocolano è uno di quelli che l'esperienza ce l'ha, ed è un ottimo giocatore. Ottimo acquisto per l'Under-23, benvenuto Simone Jocolano, fino alla fine, Forza Juventus!